L'acqua che sfonda bocche di lupo e infrange i vetri, l'acqua che si insinua in ogni pertugio e danneggia elettrodomestici e auto a quasi 40 ore dall'inondazione in via Montello a Giavera è ancora il momento della conta dei danni e della paura. Siamo disperati, disperati, non sappiamo più che santi chiamare, chi chiamare, il sindaco ci viene incontro, ci aiuta ma è limitato anche lui, non sappiamo cosa fare. Provvisoriamente tutti quanti ci si arrangia con delle partie, sacchi e altre cose finché non si trova una soluzione. Non diciamo così corre i ripari come... Eh sì, purtroppo sì. Via Montello negli ultimi anni è finita sott'acqua tre volte, la prima nel 2018, la seconda il 9 giugno scorso, la terza poche sere fa. Comprensibile a questo punto l'esasperazione, per alcuni non c'è stato nemmeno il tempo per risollevarsi. Questa è la... dove è arrivata l'acqua il 9 giugno e questa è quella dove è arrivata ieri, l'altro ieri. Ogni volta che piove, ogni volta che c'è una nuvola un po' più nera abbiamo paura e non sappiamo più cosa fare. E questo mentre continua a piovere, con il centro funzionale della protezione civile che ha prolungato a tutto sabato lo stato di attenzione per vento forte su area montana e pedemontana, resta l'avviso di criticità idraulica e idrogeologica e resta quindi la paura come quella provata dal signor Aldo Lucchetta, che ha tentato di mettere in sicurezza il suo garage con dei sacchi ma non ha avuto il tempo materiale per farlo. L'acqua lo stava travolgendo. L'acqua mi arriva da qua, da qua e mi ho preso paura tutti questi anni qua le prime volte. Garage, cucine da buttare, intonaci, ricordi di una vita, l'elenco in questo angolo di Giavera si allunga ora dopo ora. Arriva che è un fango, fango e adesso ecco io per pulire qua, per sistemare mi ci vogliono, non so, io ventimila euro se mi bastano, no, 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 non mi bastano, no.